Un'idea semplice finalmente attuata grazie alla collaborazione tra gli assessorati ai servizi sociali e alla pulizia locale e al braccio armato della protezione civile comunale a Taranto. Tutti gli alimenti invenduti e a rapido deterioramento frutta, verdura e pesce che per anni sono stati gettati adesso vengono destinati alle mense dei poveri. Un progetto contro lo spreco alimentare che diventa realtà grazie alla collaborazione e alla disponibilità degli esercenti del mercato Fadini. Accade ogni sabato a fine mattinata oggi abbiamo seguito i lavori dei volontari e abbiamo trovato in divisa di protezione civile anche l'assessore Ciracci. Abbiamo raccolto derrate alimentari che saranno distribuite ai centri di Ossesano Caritas, alla mensa di San Pio X e alla mensa della Madonna del Carmine. Tutto questo a vantaggio delle persone meno fortunate di noi.